I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Trieste nell'ambito dei servizi di controllo del territorio hanno arrestato per evasione furto aggravato DF, un triestino 41enne pluri pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio. I militari dell'arma lo hanno colto in flagranza di reato all'interno di una macelleria nei pressi di piazza Foraggi. L'uomo che stava scontando una condanna in regime di detenzione domiciliare verso l'una di questa notte è evaso dalla propria abitazione nel quartiere di Servola e ha raggiunto l'esercizio commerciale. Dopo aver sfondato la vetrina ed essersi introdotto nei locali ha cercato di impossessarsi di svariati chilogrammi di merce e del denaro contenuto nel registratore di cassa. Il fragore dell'effrazione però è stato chiaramente udito da alcuni residenti della zona che hanno tempestivamente segnalato la spaccata al numero d'emergenza 112. La centrale operativa ha quindi fatto convergere diverse pattuglie che trovandosi già nella zona sono arrivate sul posto in pochi istanti cogliendo il manvivente ancora all'interno del negozio. L'area furtiva è stata restituita all'esercente mentre l'uomo è stato tradotto al corneo a disposizione dell'autorità giudiziaria.